Allora, 16 gennaio, sono le ore 23.10, riprendo con il video, mi trovo a Via Grimaldi e riprendo sempre le condizioni della strada di Via Grimaldi Allora, possiamo vedere le condizioni della strada Via Grimaldi Into the Via Grimaldi Quar합니다 R Editor Mia Charliffe Il nostro corso gratuito Anche del divieto che è stato messo. Prendo le condizioni per la strada. E ci troviamo a Via di Maldi.